Revocato il diveto di balneazione nel tratto di costa tra il Lido Enea e il Lido Baia dei Delfini, mentre resta non balneabile la zona alla foce del Tusciano, dove però non insistono strutture balneari. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, è espressamente richiesto di riclassificare, dopo una serie di analisi favorevoli, la qualità delle acque di balneazione. La Regione Campania ha espresso il proprio parere positivo e l'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania, l'ARPAC, dopo ulteriori esami ha revocato il diveto di balneazione. I dati forniti dall'ARPAC fanno riferimento ad un prelievo di un campione di acqua di mare effettuato lo scorso 14 giugno 2018. Le analisi effettuate hanno dato esito favorevole alla revoca dell'ordinanza di diveto di balneazione.